Grazie alla scuola si cresce, grazie alla scuola non si ha paura di paure che non esistono e anche se ci fossero delle paure vere si sconfiggono stando insieme. La psicosi da coronavirus si combatte anche in classe, lo sanno bene al liceo Aretino Piero della Francesca dove gli studenti hanno deciso di festeggiare il Capodanno cinese. Abbiamo 110 ragazzi che studiano la lingua cinese, abbiamo invitato dei rappresentanti importanti del Ministero dell'Istruzione cinese e insieme a loro abbiamo celebrato l'inizio dell'anno del topo. L'istituto, così nei giorni della paura, ha deciso di aprire le porte dell'Aula Magna alla grande festa del Profondo Est. Canti cinesi, danze cinesi, abbiamo visto come si prepara il tè, abbiamo visto all'opera un calligrafo ma soprattutto abbiamo respirato quello spirito di bellezza dei giovani che non hanno paura e che vedono in tutti qualcosa di bello e qualcosa di se stessi. Ovviamente anche al liceo Piero della Francesca resta alta la guardia, anche qui la scorsa settimana si è concluso infatti il monitoraggio richiesto dal Ministero a tutte le scuole per la gestione degli studenti di ritorno dalle aree a rischio della Cina. Nessun caso critico è emerso, altrettanta prudenza è richiesta anche per le gite scolastiche. Noi fortunatamente il viaggio studi a Shanghai l'avevamo fatto a cavallo tra ottobre e novembre quindi siamo in attesa che l'organizzazione sanitaria mondiale e tutti coloro che lavorano per questo ci diano dei segnali importanti. Per il resto, niente, noi siamo in Italia e con la comunità cinese abbiamo un rapporto bellissimo.